Di là dello sguardo politico che è stato decisamente importante per Conf Cooperative quest'anno, tecnicamente lei che segue da vicino tutta la parte tecnica di Conf Cooperative, c'è un assestamento dell'impresa però la cooperazione va avanti? Beh necessariamente è riferimento di diversi settori e questo significa che ancora il sistema cooperativo è in grado di dare delle risposte in modo particolare alle persone e soprattutto a quelle che sono delle forme di aggregazione che vedono nel futuro sempre di più necessità di coesione non solo sociale ma soprattutto di risorse. Risorse che vanno di risorse umane soprattutto di quelle finanziarie e soprattutto delle produzioni del territorio che sono la nostra eccellenza. Rispetto a questo chiaramente la cooperazione va avanti, va avanti perché è solo, non dico l'unico strumento, ma è lo strumento principe per quanto riguarda la possibilità di poter intercettare possibilità di sviluppo ma soprattutto attraverso l'aggregazione del prodotto, quindi l'aggregazione di massa rispetto all'aggressione quindi della competitività e rispetto a un mercato sempre di più globale. Le nostre imprese proprio nel settore agroalimentare stanno dando belle risposte rispetto a quelle che sono le attività del territorio e sono in grado di poter portare in tutta Europa e all'estero in modo complessivo prodotti di qualità e soprattutto di riferimento di un'area che sempre di più è a vocazione agricola. Presidente, che anno è stato per il Consorzio del Nero di Troia e per il Nero di Troia in genere? Per il Consorzio del Nero di Troia è stato un anno di svolta perché stanno prendendo forma tutte quelle azioni che erano state messe in piedi dal Consorzio di tutela, dal Comitato Promotore ancora prima quindi si sta affermando sul mercato a livello nazionale e anche internazionale il Nero di Troia e in particolar modo la DOC Tavoliere. Bene Presidente, intanto è nato un primo vino con l'etichetta del Nero di Troia. Il primo vino nato è il padre, DOC Tavoliere 2011, e subito ha avuto un riconoscimento abbastanza importante a livello nazionale come miglior acquisto della regione Puglia come il Nero di Troia DOC Tavoliere 2011. Le prospettive del Consorzio per il 2014? In crescita senza nessun tipo di problema perché è un prodotto ben accettato dai consumatori, ben accettato dal mercato non è una novità ma è un vino fatto dalla nostra terra, strettamente legato al territorio e non può avere che è successo sul mercato, sia nazionale che internazionale. Il rischio è responsabile del CONFAT all'interno di CONF Cooperative, quest'anno per la forestazione come è andata in genere? Intanto possiamo dire che quest'anno la forestazione sta in ogni caso rispondendo a quelle che erano le aspettative degli anni passati. Stiamo avendo un buon periodo per quanto riguarda gli interventi nel campo forestale perché abbiamo praticamente applicato o in questo caso qua fatto degli interventi in campo progettuale utilizzando fondi del PSR. Bene, sono nati due nuovi parchi avventura, questo è insomma un po' il fiore all'occhiello del CONF. Innanzitutto erano progetti che non sono presenti in provincia di Foggia. Il CONFAT ha avuto il coraggio di presentare questi progetti innovativi che vanno nella direzione della valorizzazione delle risorse forestali. È chiaro che certamente non è esaustivo, questi progetti non sono esaustivi e sicuramente vanno accompagnati e affiancati di altri progetti che in questo momento qua riguarderanno la futura programmazione. Questo significa che ci deve essere un 2014 sì di assestamento ma anche per raffinare un po' tutto il progetto del CONFAT? Intanto stiamo puntando molto sulla nuova programmazione, completiamo quella già passata, i fondi strutturali del PSR 2007-2013 ormai sono stati archiviati anche se noi stiamo ancora praticamente continuando con i cantieri, chiuderemo la programmazione vecchia nel 2015 e contestualmente stiamo iniziando praticamente la nuova programmazione 2014-2020. Grazie. 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 Grazie.